Il Benevento si avvicina alla Serie A. In archivio la prima delle due finali playoff di Serie B andata in scena al Cabassi di Carpi. Punteggio a reti bianche in una gara che vede sicuramente sorridere i sanniti più che i romagnoli. La migliore posizione di classifica infatti consentirà al Benevento di poter anche pareggiare al ritorno e fare successivamente festa. Baroni ha dovuto fare a meno di Ciciretti infortunato, Puskas squalificato e Ceravolo non al top. In attacco per provare a fare male alla difesa di Castori, il tecnico delle streghe si è affidato a Falco, Sisse e Melara. Missione dunque quasi compiuta per una compagine che all'esordio in Serie B rischia seriamente di scrivere una pagina indelebile della propria storia calcistica. Baroni nel post gara fatto da pompiere provando a spegnere gli entusiasmi e tenendo sulla corda i suoi ragazzi. Non dovremo pensare al pareggio, ha affermato, mentre in casa Carpi la voglia di un frosinone bis è davvero forte. Pronti ad un'altra impresa è lo slogan che campeggia nello spogliatoio bianco-rosso. Giovedì sera in uno stadio vigorito già sold out, più che una caccia alle streghe sarà una caccia alla gloria.